Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video oppure benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti io sono uomo che sapeva troppo per gli amici uomo e oggi siamo qua per chiacchierare di rimandi rimandi, lo sciopero di Hollywood è finito, gli attori hanno diciamo trovato un accordo con l'emage o con i produttori per insomma una paga che sia giusta per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che sia ampiamente monitorato insomma c'è il divieto per le major di prendersi l'immagine per sempre di ogni attore insomma lo sciopero è finito, speriamo per un po', speriamo per sempre insomma che non si debba più tornare in questo status di sciopero sciopero che ovviamente ha tenuto ferma Hollywood per mesi e non potendo girare nulla si è ritrovati a dover rimandare tante cose già molte case di produzione, di distribuzione lo hanno fatto, ovviamente è toccato anche a Disney, a Marvel Studios perché? Perché sì ragazzi hanno rimandato di nuovo tutto oramai non so quante volte già ho dovuto fare dei video che iniziavano con hanno rimandato tutto ma così è, abbiamo però le nuove date abbiamo le nuove date e una situazione davanti che in realtà è meno povera di quel che sembra andiamo un attimo ad analizzare come appunto ci sono stati i rimandi, quali sono stati i rimandi partiamo con l'MCU perché comunque ricordiamo che sì, l'MCU è la colonna portante Marvel però c'è anche la Sony con il suo Sony Spider-Man Universe, il Su, che ha qualche progetto in arrivo alcuni anche di successo purtroppo, pensiamo a Venom che però si intersecheranno con l'MCU, già lo hanno fatto Spider-Man soprattutto praticamente è certo che arriverà a intrecciarsi con questi prodotti quindi andiamo con ordine, cominciamo con l'MCU l'MCU abbiamo Deadpool 3 che sarà ragazzi l'unico film a uscire nel 2024 26 luglio 2024 poi sono stati spostati tutti gli altri film Capitan America 4, Capitan America Brave New World arriva il 14 febbraio 2025 quindi slitta praticamente di un anno Fantastic Four resta per ora al 2 maggio 2025 Blade si sposta al 7 novembre 2025 e Thunderbolts al 25 luglio 2025 quindi comunque nel 2025 ci sono un po' di titoli insomma ben 4 titoli dell'MCU per adesso mentre l'anno prossimo ne vedremo solo uno ma non è finita non è finita perché ci sono appunto i titoli del Su già i sopraccitati titoli del Sony Spider-Man Universe che per adesso, per adesso, restano tutti nel 2024 perché avremo Madame Web 14 febbraio 2024 il trailer non si è ancora visto mancano tre mesi insomma poco più devono sbrigarsi se non arriva dentro poco non lo so questo film se lo vediamo davvero Craven il Cacciatore 30 agosto 2024 e Venom 3 l'8 novembre 2024 quindi insomma direi che anche a livello Sony l'anno prossimo è abbastanza pieno non so se Venom resterà dov'è magari sposteranno qualcosa nel 2025 è pur vero che nella lista non c'è Sony vorrebbe far uscire un Spider-Man 4 nel 2025 che incastrandosi ancora di più all'MCU renderebbe il 2025 veramente pieno, pieno di film ci sono anche le serie TV però Marvel, MCU, Marvel Studios hanno delle serie TV tralasciamo cose come il cartone animato X-Men 97 che magari fa parte del multiverso ma è comunque un cartone animato che porta avanti la vecchia serie appunto degli anni 90 restando in ambito telefilm ma includendo anche What If che si è un cartone animato ma incastonato nella continuity dell'MCU abbiamo What If 2, la seconda stagione che dovrebbe partire a dicembre 2023 ultimo prodotto di quest'anno si dice intorno a Natale c'è anche un episodio natalizio magari partono proprio con quello vedremo poi abbiamo Echo 10 gennaio 2024 abbiamo visto da poco il trailer sul canale potete trovare anche un'analisi del trailer che uscirà tutta insieme il 10 gennaio 2024 quindi verrà rilasciata tutta ensemble tutta insieme potrete bingiarvela 5 episodi e poi abbiamo Agatha Dark Old Diaries che non ha una data precisa ma comunque è ferma per l'autunno 2024 mancano in questa lista Daredevil Born Again e Ironheart tra l'altro che è già stata praticamente girata tutta perché non hanno una vera data entrambi erano stati spostati di fatto 2025 ma Marvel non ha dato una vera e propria data ufficiale quindi per ora non li mettiamo non li mettiamo questa è più o meno quindi la situazione generale di tutto quello che ci aspetta adesso facciamo un bel recappino non c'è molto da dire diciamo che era inevitabile che lo show però portasse a questi rimandi Capitan America 4 viene rimandato praticamente di un anno pare che i test screening le prove di visione interne non siano andate molto bene i vari tecnici opinionisti azionisti Marvel sceneggiatori insomma un po' di gente a cui è stato fatto vedere il film hanno detto cambierei delle cose ci sono tre grosse sequenze che pare verranno completamente rigirate più gli effetti speciali quello che volete insomma il film verrà quasi rifatto da zero probabilmente il resto si sposta anche un po' per seguire chiaramente lo spostamento di un film perché sappiamo che come il Domino se sposti qualcosa dalla Marvel un po' tutto deve slittare ci sono alcune cose magari meno collegate o non collegate direttamente che puoi tenere un po' prima tipo Deadpool mi immagino si faccia abbastanza gli affari suoi si collegherà probabilmente ad Avengers Secret Wars o comunque i prossimi Avengers ma per adesso è abbastanza da solo e infatti viene tenuto nel 2024 Deadpool 3 è un film che con Ryan Reynolds che fa Deadpool con Hugh Jackman che fa Wolverine con un sacco di cameo tutto quello che volete è il film che potrebbe puntare al miliardo uno dei prossimi grandi incassi della Marvel come sono stati in parte Doctor Strange Spider-Man Far From Home non stiamo neanche a citarlo No Way Home pardon non stiamo neanche a citarlo anche se quello è un film Sony quindi i soldi se li sono presi loro o anche Guardiani Guardiani 3 che comunque ha superato gli 800 milioni se non sbaglio quindi è comunque andato molto bene ecco un tipo di film che può incassare tanto è sicuramente Deadpool 3 quindi capisco che se dovevano tenerne uno hanno deciso di tenere lui e arriverà in estate quindi momento momento blockbuster gli altri appunto verranno rimandati e la speranza è che vengano rimandati per essere sistemati Marvel magari si accorta dopo la riunione che è stata fatta in settembre del fatto che oramai il pubblico non risponde festante con grandi incassi a qualsiasi cosa abbia scritto Marvel nel titolo e hanno un po' usato la scusa passatemi il termine dello sciopero nel frattempo dove non si poteva lavorare per fare secondo me mente locale riorganizzarsi un po' hanno avuto diversi mesi quindi si spera che ora d'ora in poi vedremo magari un programma fitto perché probabilmente si infittirà visto questi rimandi ma magari più ragionato più sistemico che ci porti poi piano piano questi benedetti Avengers che non ho messo in lista ma dovrebbero uscire nel 2026 2027 che sono Kang Dynasty e Secret Wars ma facciamo un bel recappone tutto quello che se le cose non cambiano e ragazzi potrebbero cambiare assolutamente soprattutto dalla parte di Sony oppure anche da parte di Marvel se dovesse rimandare Fantastici 4 perché magari non vuole così tanti film nel 2025 questo è tutto quello che per ora vedremo tra il 2024 e il 2025 al quale dovete aggiungere però Spider-Man 4 che appunto non ho messo perché non ha una data ma potrebbe comparire quindi ora vediamo il recap finale di tutte le uscite mettendoli quindi tutti in ordine rigorosamente di data di uscita quindi proprio in ordine cronologico tra il 2024 e il 2025 insomma in questi due anni vedremo What If seconda stagione delle avventure multiversali e cartoni animati dicembre 2023 Echo lo spin-off di Hawkeye in qualche modo collegata anche a Daredevil vista la presenza di Kingpin e proprio di Daredevil 10 gennaio 2024 Madame Web il multiverso i viaggi nel tempo entrano di forza nel Sony Spider-Man Universe il 14 febbraio 2024 Deadpool 3 Deadpool 3 il multiverso del mercenario chiacchierone la TVA Wolverine qualcosa chi lo sa 26 luglio 2024 Craven il Cacciatore le avventure in solitaria del nemico di Spider-Man il 30 agosto 2024 Agatha Darkhold Diaries il ritorno della strega dopo Vandavision che insomma dovrà credo raccogliere un po' l'eredità lasciata da Vanda Maximoff magari anche capire come farla tornare in vita chi lo sa autunno 2024 Venom 3 8 novembre 2024 per il ritorno del simbionte con due film diciamolo orribili Capitale America 4 Brave New World nuovo Cap Hulk forse She-Hulk il capo che torna dal primo film di Hulk Harrison Ford che fa il presidente insomma di tutto di più si vocifera possa diventare quasi una sorta di Civil War una specie di nuovo mini Avengers 14 febbraio 2025 Fantastic Four per ora rimane il 2 maggio 2025 con il debutto della famiglia Marvel più famosa Thunderbolts con i cattivi o quasi che faranno i buoni il 25 luglio 2025 con tanti personaggi che arrivano dalle serie TV Marvel e Blade l'ammazza vampiri il 7 novembre 2025 tra l'altro si vocifera anche ambientato nel passato dell'MCU tanto lui non invecchia insomma potrebbe anche esserci Dracula poi come cattivo io ci spero queste sono un po' le date insomma che per adesso abbiamo che dobbiamo considerare definitive ma insomma tra sciopero e altri rimaneggiamenti non è detto che le cose non cambino di nuovo io comunque tutta questa lista ve la lascio anche poi qua sotto nel primo commento al video fatemi sapere cosa ne pensate se avete aspettative di qualcosa se qualcosa vi ha sorpreso se qualche scambio qualche rimando vi ha lasciato un po' perplessi alla fine quello più grande che ha un po' fatto così trasalire tutti è quello di Capitano America insomma fatemi sapere fatemi sapere cosa vi aspettate dal futuro supereroistico da qua al 2025 2025 dove si concluderà la fase 5 e inizierà anche al contempo la fase 6 con appunto i due Avengers e altri film che ancora non sappiamo quali sono ma che si dice possono essere un Doctor Strange 3 un Thor 5 e qualcuno diceva o gli Eterni o Shang-Chi o entrambi non lo so che potrebbero tornare in attesa del gran finale con Secret Wars vedremo vedremo anzi se avete visto The Marvels il finale vi lascia anche intendere che potrebbe arrivare anche un'altra squadra una squadra molto particolare nell'MCU noi ci vediamo un altro video mi raccomando seguitemi anche su Twitch qua sotto in descrizione video trovate tutti i link per seguirmi in tanti altri posti e anche modi per sostenere il canale date un clicchino insomma guardate un po' tutto quello che posso offrirvi qua sotto e nei commenti appunto vi metto la lista completa e aspetto di sapere la vostra noi ci vediamo al prossimo video ciao